Signori, ben ritrovati con un format che potrebbe accompagnarci, sicuramente si trasformerà in live per questa stagione, quindi il format sarebbe il Monday Night, ma oggi è martedì perché comunque il campionato, almeno queste prime due giornate, dura fino di lunedì, quindi poi quando farò le live su una piattaforma famosissima, che adesso non sto neanche a citare, e poi dopo appunto si faranno i video lì, questo potrebbe prendere piede come format appunto da portare tutta la stagione, piuttosto che le solite pagelle, preferirei fare delle live sul termine della giornata di campionato in corso. Allora, facciamo un po' un sunto, l'Inter ovviamente ha vinto 3-0 contro lo Spezia, chiaramente in questi video, perlomeno in questo, analizzeremo il passo delle grandi, poi quando avrò il tutto sotto con la postazione, poi si può anche parlare di tutte le squadre che hanno comunque giocato la giornata di Serie A, di cui si parlerà. Allora, l'Inter appunto ha vinto 3-0 contro lo Spezia e il Milan, che ho visto in parte contro l'Atalanta, sinceramente non mi aspettavo due cose, ovvero non mi aspettavo un'Atalanta così comunque arrembante, perché bisogna dirlo che ha creato, io pensavo che si portasse dietro un po' gli strascichi dell'anno scorso, e soprattutto dopo la polemica di Gasperini in settimana su Malinowski, credevo che si sarebbe creato un effetto un po' negativo su questa squadra. Quindi questo, l'Atalanta mi ha stupito, perché ho rivisto un'Atalanta a tratti, diciamo in versione Atalanta, versione vecchia Atalanta, però ho visto anche tanti errori da ambo le parti, quindi molti soprattutto dell'Atalanta, soprattutto degli appoggi, passaggi semplici finiti in faro laterale, piuttosto che altre cose. Il Milan, sinceramente, è chiaro che è un pareggio che non dico che è orocolato, perché non è vero, comunque sono i campioni di taglia in carica, però sinceramente il Milan forse l'anno scorso, anche per come l'aveva impostata, è stata una delle partite che gli ha permesso poi di vincere lo Scudetto, poche giornate dalla fine, lo scontro a Bergamo, pensavo che potessi impostarla più o meno sulla stessa linea d'onda, e, sincero, sono sincero, pensavo vincesse il Milan, quindi sono stato sorpreso da queste due cose qua. E quindi è un ottimo pareggio per entrambe, sicuramente ne giochiamo noi perché sta due punti indietro, e la prossima però noi abbiamo la Lazio, quindi poi questo ne parliamo dopo. La Juve, la Juve, signori, cioè, passiamo subito alle cose croccanti. La Juve è un pareggio contro una Sampdoria, è vero che, è vero che non hanno Pogba, non hanno Di Maria, c'è Chiesa che manca da due anni e mezzo, e quindi bisogna anche dare, bisogna anche riconoscere questi deficit che hanno. Ciò non toglie che i problemi di Max Allegri, e io un po' me lo immaginavo, rimangono sempre gli stessi, ovvero far girare la quadra, far giocare bene la squadra e avere quantomeno un'idea di gioco, cosa che francamente non ha mai avuto, ma neanche quando vinse lo Scudetto al Milan e l'anno dopo quando perse contro la Juve, la prima di Antonio Conte, perché comunque ha sempre avuto delle squadre investite di campioni, cioè quel Milan lì aveva un centrocampo molto roccioso, un attacco veramente formidabile, e poi ricordo anche che lui rinunciò a un certo Andrea Pirlo, ma passiamo oltre. Quindi Allegri che viene fermato da un maestro Giampaolo, e insomma, è che io mi sto nascondendo dietro un dito, è quando si può, insomma, si gode, non ha perso chiaramente, siamo a inizio stagione, ci sono tutte le attenuanti del caso, però, diciamo che forse qualche problemino dell'anno scorso gli è rimasto, diciamo che per battere la Sampdoria probabilmente non è che, c'è proprio bisogno che ti compri, non Neymar e Mbappé, eh, Allegri, facciamo così. E vabbè, la Roma ha confermato, diciamo, quello che abbiamo visto nella prima giornata, comunque la prima, adesso faccio anche fatica a ricordare contro Chiaramico, sarà contro la Salernitana, però ha vinto entrambe le partite per 1-0, contro delle squadre che non fanno sicuramente bagnare la braghetta, a sentire il nome con tutto il rispetto, per carità di Dio, però, diciamo, rocciosa come il suo allenatore, Murigno, anche lì, Murigno non ha mai fatto vedere un calcio spettacolare, però le sue squadre sono sempre state, quando hanno girato, pragmatiche e funzionali. E poi a tanti comunque, Murigno, al contrario di Allegri, fa vedere degli sprazi di gioco, cioè la squadra sa interpretare a tratti delle belle giocate e fare quel qualcosa in più. Quindi una Roma che quest'anno, seppur avendo perso Vainaldum fino alla sosta del Mondiale, con un Paolo Di Bala in più, poi adesso vedremo se arriverà anche Belotti, più comunque un altro centrocampista di cui hanno bisogno, hanno perso anche Zagnolo, ricordiamolo, però comunque sì, rimane una squadra che secondo me, non per il titolo, ma andrà certamente in Champions League, questo è quello che penso io. Il problema forse più grande che non mi aspettavo, fino almeno due settimane fa, è il Napoli, perché il Napoli ha sostituito quelli che sono andati via, cioè quelli che ha perso a zero più che altro, quindi Signia Mertens, con questo Caracchvel, non so se si pronuncia così perché prima l'ho letto bene e l'ho impostato come nuova password del Wi-Fi, quindi adesso pian piano me lo rileggo, poi me lo imparo perché è la mia password, quindi... e soprattutto Raspador, cioè soprattutto Raspadori, sono giocatori con caratteristiche diverse da i due che ho citato prima, ovvero Mertens e Insigne, però quando il Napoli vuole pescare, tipo Elmas, tipo Fabian Ruiz, e questo forse è ancora più talentuoso, ancora più forte, comunque, seppur avendo un ruolo ovviamente diverso, e questo potrebbe essere un crack, questo potrebbe essere veramente un grandissimo talento che potrebbe diventare un gran giocatore, e quindi potrebbe il Napoli quest'anno creare diversi problemi. Non credo, non me ne vogliate napoletani se state guardando il video, che il Napoli ci sia per il titolo, per vari motivi, che si assomigliano per certi versi a quelli della Roma. La piazza che dopo un po'... La Roma è una piazza pesante che può far crollare la palazzina su se stessa, diciamo, le fondamenta. Mentre il Napoli è il contrario, forse il troppo calore che può gasare troppo, e poi negli anni c'è sempre stato, diciamo, questo problema della poca esperienza, o mi spiego meglio, di gente che ha vinto poco. Diciamo che un Insigne in più quest'anno, avendo anche vinto l'Europeo, ma l'aveva già poi anche vinto l'anno scorso, sicuramente faceva comodo, però ovviamente uno solo con un bagaglio di vittorie così non può bastare, poi ha vinto dei trofei con il Napoli, l'Europeo è stata la sua più grande vittoria, però diciamo che al Napoli negli anni di sono mancate sempre queste cosine qui, diciamo, gente che ha vinto, perché comunque i giocatori ne ha avuti, cioè non è che soprattutto l'anno di Sarri, dove fece 91 punti, 91 punti. e mi ricordo anche l'anno di, gli anni di Mazzarri, in cui c'erano Amsic, Lavezzi, Cavani, uno dei più grandi giocatori che la Serie A mai visto, io ero innamorato di Edinson Cavani, poteva all'epoca venire all'Inter. Quindi diciamo che adesso la situazione è, la Juve più o meno si ha fatto vedere di portarsi dietro i problemi dell'anno scorso. L'Inter può solo che crescere, il Milan secondo me comunque in Champions ci va garantito e comunque rimane una spina nel fianco in questo campionato. La Roma secondo me va in Champions sicuramente ed è una squadra ben assortita e il Napoli secondo me crea qualche problema, qualche grosso problema, anche perché è quella che secondo me abbiamo patito di più in questi anni. Quindi questo è un po' il sulto delle grandi, diciamo, vabbè la Lazio non sto a citarla perché non me ne vogliono, ma la Lazio insomma è sempre una squadra che arriva in Europa League. Ah, a proposito, la Lazio sarà il grande vero test per la prossima di campionato che poi avverrà il turno infrasettimanale e poi se non erro c'è il derby. Quindi lì col zuccone, lì col zuccone e questo sarà il primo vero test. Qui voglio vedere veramente l'Inter che tira fuori le pelotas. Qui voglio vedere veramente la grinta e come verrà affrontata questa partita perché è la prima vera grande sfida della stagione. Signori, come sempre, se vi piace il calcio ma soprattutto l'Inter, se siete tifosi dell'Inter iscrivetevi, lasciate un mi piace che non costa niente e io vi saluto. Alla prossima.